questa è via margutta la strada romana degli artisti di tutto il mondo in uno studio come tanti altri un pittore è all'opera ma il suo lavoro è particolarissimo ogni anno infatti punch fa il quadro a olio del vincitore del derby italiano del galoppo quel quadro finisce in un antico e nobile palazzo romano nella sede del jockey club il cui grande custode è giovanni cassis questa è andrina la vincitrice del primo derby corso alle capanelle del 1884 poi vengono gli altri rosenberg enio carl andrea filiberto eccetera eccetera in questa galleria un vero e proprio gota del puro sangue nomi famosi in tutto il mondo a pelle ne arco nicolò dell'arca tenerani marchese cassis da quanto tempo si corre il derby italiano si corre da 79 anni quindi è relativamente giovane il derby inglese si corre dal 1780 quello francese dal 1836 qui abbiamo visto i quadri di tutti i vincitori di derby il giochi club italiano continuerà questa tradizione certamente in questo modo si forma una collezione che diventa un monumento dell'allevamento italiano quando il giorno del derby si avvicina i cavalli destinati alla corsa prendono conoscenza con le capanelle l'ipodromo romano della via apia di buon mattino gli ultimi caloppi una volta e indirittura i punedri si allungano nello sforzo conclusivo fin oltre il traguardo la gente del tarf li segue annotando dati preziosi segnando tempi al decimo di secondo dopo domani queste impressioni potranno trasformarsi in danaro potranno dare la gioia ad avere indovinato il terby guinna il giorno della vigilia l'ipodromo è come una giovane donna che si prepari alle nozze tutte queste cure sono per un cavallo da corsa per il breve momento di gloria di un puro sangue di tre anni nato e allevato in italia per il più forte più veloce per il vincitore del derby ogni cavallo ha un proprietario è un allevatore è più bravo il primo il secondo ascoltiamo quello che ci dicono paolo mezzanotte e virginio kurti rispettivamente presidente dei proprietari e degli allevatori sentiamo mezzanotte è più bravo il proprietario io credo di sì perché il proprietario deve superare un insieme di rischi che indubbiamente l'allevatore non ha non c'è dubbio che in tutto allevatore proprietario è questione di fortuna indubbiamente perché bisogna avere la fortuna di azzeccare la selezione per quello che il proprietario di azzeccare l'incrocio l'allevatore bisogna avere la fortuna insieme alla capacità per il proprietario di andare a scegliere alle aste o alle trattative amichevole quel puledro che poi potrà portare dopo due anni da quando l'ha acquistato a una fatica come quella del derby in parte il l'avvocato a mezzanotte ha ragione però lui si dimentica l'ansia dell'allevare l'ansia di far coprire una fatrice l'ansia di portare per tre anni di seguito che vogliono dire quattro con la copertura della fatrice un puledro al derby lui forse non l'ha mai provato io in questo momento sto provando è il grande giorno folla anonima qualche volto ben noto nel quadro elegante del recinto del peso ci si ritrova come a un appuntamento di antica data ci sono i meno giovani i giovani i giovanissimi in contrasto col peso la dilagante confusione del prato qui è la libertà più vera il trionfo di una fatalistica visione delle cose propria ai romani di roma intanto per la corsa precedente un anticipo ai palpiti del derby a sentire i maschietti delle borgate tra queste gambe ci passerebbe un cane non c'è rispetto nemmeno per un giochi baronetto come gordon richards ed ecco lì all'insellaggio i cavalli del derby nel recinto elegante la folla non parla che di loro dei meravigliosi lucenti puledri del derby nobiltà di cavalli elevatezza di stile al prato intanto il motivo conduttore è sempre lo stesso all'aria aperta come in una festa pagana la porchetta e il cannellino sono le divinità di torno al peso invece si sta a rigidi e composti ai tavoli del bar come a via veneto insomma questa signora deve averne visti di derby di cavalli che sfilano nel paddock di presentazione prima di entrare in pista è il momento delle scelte delle scommesse a guardarli dall'alto questi puledri sembrano tutti uguali invece uno solo vincerà sua sarà la gloria del più forte la sfilata la passerella è il momento della vanità tutti i binoccoli sono puntati su di loro sui cavalli del derby poi i lasciati liberi galoppano verso la partenza gli occhi di tutti guardano verso un medesimo punto i commissari, arbitri e grandi sacerdoti delle corse non perdono un dettaglio è il trionfo dei cannocchiari lo starter ha colto il momento giusto via, partiti la grande galoppata comincia come mercurio sul fondo nevigato il gruppo s'apre la strada sull'erba soffice della pista si lotta per restare al comando si lotta per trovare la posizione migliore mentre il plotone va sulla grande curva i cervelli dei fantini sono altrettanti congegni elettronici non si può sbagliare chi sbaglia perde la corsa è il momento risoluto uomini e cavalli si concentrano per l'attacco finale la parola è alla frusta poi passerà al cuore e ai garretti dei purosanghi un punedro sta mostrando la sua superiorità la sua giubba bianca crociata in rosso a Sant'Andrea è famosa in tutto il mondo più a largo il nero violetto di un'altra scuderia gloriosa si lotta per il primato della generazione il traguardo è quasi un miraggio per l'uomo e per il cavallo poi gioioso come un annuncio di vittoria si offre al più forte per un nuovo derby un nuovo vincitore nella gloria del rientro la fatica, la frusta, la struggente ansia della dirittura d'arrivo sono alle spalle non c'è posto che per la gioia un altro derby ha il suo trionfatore un nome nuovo da aggiungere agli altri per quell'ordine d'arrivo per quel tempo indicato sul cronometro ufficiale anni di studio, di sogni, di amore sono alle spalle quel vincitore di derby arriva da lontano dal mondo immutabile come fuori del tempo dei grandi allevamenti eccolo questo mondo nel quale l'erba e le biade, come i riti che vi si svolgono sono uguali da sempre come un prezioso marchio di fabbrica la croce rossa a Sant'Andrea ci parla ancora una volta della favola bella di Federico Tesio l'uomo che creò Nearco e Ripo ed ecco gli immutabili abitatori di un allevamento la placida fattrice che esce per la passeggiata mattutina lo stallone possente e inquieto che lascia il suo box ampio e accogliente come quello di un re adepita distanza in uno dei tanti prati che il grande albergo verde offre ai suoi preziosi abitatori il corteggio delle fattrici è come un segno di grata sottomissione al dominio dello stallone e lo stallone come un signore rinascimentale ama e sopporta le buffonate del suo giullare un cane che nel rispetto del luogo ha un suo pedicree di gran classe come di gran classe sono le madri come di gran classe sono i puledrini da uno di questi puledri in un giorno di maggio uscirà un altro vincitore di derby per la gloria del libro d'oro per la consacrazione di un ritratto a olio un altro derby è passato un altro derby verrà tra tutti quelli nati in Italia un solo puledro ne sarà il vincitore è la legge del derby una legge spietata ma affascinante e conquistatrice a Grazie a tutti. Grazie a tutti.